Ragazzi, Free Guy è finalmente uscito al cinema, nelle sale italiane, dopo forse più di un anno di attesa e devo dire che è anche meglio di quello che mi aspettavo. Ah, in realtà è vuota, non c'è nulla, è di scena. Wabalaba dab dab e bentornati su un nome ammazzo, continuiamo a parlare dei film in uscita, nelle sale cinematografiche, finalmente è uscito Free Guy, film con Ryan Reynolds al secolo Deadpool, se non l'avete presente, che parla fondamentalmente della storia di questo bravo ragazzo, dal nome appunto Guy, che si rende conto di non essere reale, di vivere in un videogioco, incontra una fan fatale, una ragazza, dei suoi sogni che gli apre un po' la mente a dove sta vivendo e questo lo aiuta anche a scoprire un po' quello che c'è dietro al suo piccolo mondo fatto di routine. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega, di condividere il video con tutte le persone che vivono in un videogioco e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo film e di questo video e scrivetemi qua sotto se avete altri film simili a questo da consigliarmi. In questo film abbiamo scoperto che Ryan Reynolds sa intrattenere il pubblico anche quando interpreta un personaggio che è l'antitesi di Deadpool fondamentalmente. Guy è a tutti gli effetti un bravo ragazzo che vive di routine, che non esce mai dai suoi schemi, che vive un loop anche perché è un personaggio creato al computer, non è davvero una persona reale, ma rappresenta benissimo tantissime persone che vivono la vita in questo modo. Il cattivo di turno è Taika Waititi, che rappresenta la persona che ha creato questo gioco online, questo software, che più che un videogioco è una sorta di second life, è una sorta di Fortnite, è una sorta di mondo dove i personaggi, dove le persone creano un avatar e vivono lì dentro ovviamente con tutte le bellezze che derivano da un videogioco, cioè poter fare il cazzo che si vuole, poter ammazzare la gente, fare delle rapine, fare delle missioni, guadagnare soldi. Chiaramente non è un simulatore di vita, ma poi ci arriviamo, ma è un vero e proprio videogioco online. E Taika Waititi, che è il creatore di questo videogioco online, di questa compagnia che si chiama Tsunami, scritto con due O, è davvero cattivissimo. Non ho mai visto Taika Waititi così stronzo, nemmeno in Jojo Rabbit, e ricordatevi chi interpretava in Jojo Rabbit. Il film è una versione per gamer di Truman Show, mescolata con Matrix, mescolata con Ready Player One, mescolata con la serie Upload, e con una spruzzatina di Ricomincio da Capo, il film con Bill Murray. Ma con un messaggio tutto suo che ci ispira a uscire dalla nostra comfort zone, uscire dalla nostra routine quotidiana, per fare magari qualcosa che abbiamo sempre voluto fare, o qualcosa che ancora non abbiamo scoperto ci piace, ma che stiamo inconsciamente cercando. Quella che, in questo caso nel film, dà la protagonista femminile, quella non so che, che riesce a dare a Guy la spinta per uscire dai suoi schemi, che è un innamoramento in questo caso, ma può succedere per mille ragioni. A volte basta qualcosa che ci fa uscire appunto dalla nostra routine, che ci dà il là, per smetterla di essere i personaggi di sfondo, le comparse della nostra vita, e iniziare a diventare i protagonisti della nostra vita. L'idea stessa di mostrarci la vita di un personaggio sullo sfondo è esilarante. L'ambientazione da videogioco online porta la sospensione dell'incredulità a un livello inarrivabile, tant'è che tutte le gag, anche quelle più assurde, più surreali, sono semplicemente esilaranti e stanno benissimo nell'ambientazione del film. Se non avete ancora visto il film vi consiglio di stoppare il video perché ora farò un pochino di spoiler, se invece l'avete visto continuate pure, spoiler tra 3, 2, 1. Partiamo col dire che l'ambientazione fatta di Avatar, quindi l'ambientazione videoludica dove ci sono dei personaggi Avatar e personaggi nella vita reale, non è un'idea nuova, l'abbiamo vista in altri film, tra tutti Avatar per l'appunto, ma anche più recentemente Jumanji, però è un'idea relativamente nuova al fatto che molti degli Avatar sono interpretati dagli stessi attori, gli stessi attori interpretano il personaggio nella vita reale e nella vita del videogioco con una qualche differenza di upgrade e di skin sulla propria persona. E questa è stata una cosa che personalmente io ho preferito perché mi sono sentito molto più legato al personaggio. Se l'attrice che interpreta Molotov Girl fosse stata interpretata magari da due personaggi diversi, mi sarei legato meno al personaggio stesso perché mi sarei legato di più all'Avatar. Invece in questo modo sono riuscito a emozionarmi diciamo di più, a sentire di più il trasporto della persona e del suo obiettivo, della sua missione, che è quella di avere i diritti sulla propria creazione. Ovviamente è comunque un mondo dove uno può assumere l'Avatar che vuole, ce lo mostrano con le ragazzine che assumono il ruolo del rapinatore, ma anche con il ragazzo che in tutti i film interpreta il nerd un po' sfigatissimo, che avevo già visto anche in altri film interpretare magari il commesso svogliato, non so bene il nome dell'attore, che ha un avatar che è niente po' di meno che Channing Tatum. Non sapevo che ci fosse nel film e vederlo introdurre proprio la scena iniziale mi ha esaltato tantissimo. Mi ha esaltato tanto anche vederlo poi quando fa tutti quei balletti del cavolo che gli fa fare il suo giocatore. La sottotrama del furto di copyright dà un non so che di più realistico, un non so che di pericolo reale, che ci fa appassionare di più alla trama in sé, che se fosse stata totalmente nel mondo virtuale di un videogioco che sarebbe comunque dovuto terminare da lì a pochi giorni, magari ci avrebbe coinvolto di meno. Qua invece con il pericolo reale che Millie, ovvero Molotov Girl e Keys, rischiavano appunto di perdere tutte le prove che dimostravano che il videogioco di Free City era basato sulla loro build originale di questo simulatore di vita, ci ha dato questo pathos in più, questo senso di realtà in più, che ci ha spinto ad amare un pochino di più questa pellicola, a dargli un pochino più di profondità, se così vogliamo dire. La pellicola è intrisa di linguaggio da gamer, che in altri ambienti io avrei detestato, come per esempio io odio che in Guardiani della Galassia Star-Lord si riferisca a Drax chiamandolo zio, è una cosa che non sopporto, ok che quando un termine, un neologismo, si impone prepotentemente nella lingua italiana poi viene inglobato nella lingua italiana, però diciamo il film solitamente dovrebbe essere quello che insegna a parlare italiano a chi non è capace, non il contrario, ma in questo caso ho apprezzato tantissimo, pur non essendo un gamer, ho apprezzato tantissimo che abbiano usato tutti i linguaggi tipicamente da gamer, ma perché gli stessi personaggi che ci sono nel film sono dei gamer, quindi è logico che usino quel tipo di linguaggio, hanno usato Newbo, hanno usato Nabbo, mi ha fatto anche piacere che abbiano usato entrambe le versioni, dato che io Newbo non lo posso sentire, Newbo e Nabbo, se non lo sapete, sono la versione storpiata in italiano di Newbie, novellino, hanno usato Killare, che si usa tantissimo anche sul sito Viola, su Twitch, proprio per evitare di usare il termine ammazzare, che oltre a essere appunto questo orribile neologismo inglese-italiano, cazzo gamer, parlate in inglese o parlate in italiano, non parlate una via di mezzo, ma a parte questo, serve anche come autocensura, in siti appunto come Twitch, o comunque quando si parla giocando online, proprio perché il termine ammazzare spesso è bannabile, e quindi si usa questo termine, hanno usato, mi è piaciuto anche molto che abbiano usato il termine bro, perché per qualche ragione il termine fra, non lo sopporto, non mi sembra naturale, anche perché in italiano non si dice fra, si dice frate al massimo, si dice zio, però davvero zio è una cosa, a parte che credo sia molto regionale, però in generale non mi sembra piacevole da sentire, invece bro è un po' più universale, mi è piaciuto molto di più, mi è piaciuto un sacco anche l'adattamento italiano del doppiaggio, per quando hanno usato il termine skin, skin inteso come personaggio, cioè come diciamo vestiario, come si può dire, pelle del personaggio che indossa, il fatto che il personaggio di Guy non capisca cosa vogliono dire, tutte le volte che gli chiedono dove hai trovato questa skin, lui capisce dove hai trovato questa pelle, e lui dice, ah sì grazie, no uso un po' di skin care, e con questo termine skin care hanno un po' raggirato il problema del doppiaggio, hanno fatto un ottimo lavoro. Il finale in cui Guy chiede aiuto a tutta la comunità di Free City per salvare appunto la città, mi ha ricordato un po' il finale di Batman Lego, dove serve un po' l'aiuto di tutti per salvare questa città che sta cadendo in pezzi. La chicca finale di Dude, che mi ero quasi tenuto per tutto il film, me la sono spoilerata giusto un paio di giorni prima, è stata divertentissima, il fatto che fosse ancora un personaggio incompleto, e che quindi non parlasse completamente, che avesse catchphrase come catchphrase, mi ha fatto divertire tantissimo. La strizzata d'occhio al mondo Marvel è stata spettacolare, il fatto che dal nulla tirasse fuori lo scudo di Captain America, e che Chris Evans, che stava guardando insieme a tutto il mondo la diretta streaming di Guy che batteva Dude, mi ha fatto sputare il caffè che non stavo bevendo. È stato fantastico, anche perché quando Ryan Reynolds cita la Marvel, tutti speriamo che in qualche modo è un passo in più per Deadpool, per entrare nel Marvel Cinematic Universe. Subito dopo lo scudo di Captain America tira fuori anche il pugnotto di Hulk, e dà un bel pugno a Dude. Mi è piaciuto tantissimo, anche perché questa pellicola è stata accompagnata dal trailer reaction di Deadpool e Korg, che sono niente poco di meno che gli stessi attori che hanno interpretato Guy, e Antoine che è Taika Waititi, quindi Korg doppia Taika Waititi e Aqua ha interpretato il villain, e Ryan Reynolds interpreta Deadpool e Guy, quindi c'è tutto questo intreccio di personaggi e attori che hanno contribuito a farci sognare un pochino di più anche con questa strizzata d'occhio alla Marvel. Bene ragazzi, il film è divertentissimo, consigliatissimo, andatelo a vedere se potete, ve lo consiglio, noi invece ci vediamo nel prossimo video che sarà settimana prossima, io per ora con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico grazie per avermi seguito fino a qui, vi dico arrivederci al prossimo video.